Novità in vista per la Camera di Commercio di Sondrio, che si appressa a diventare sempre più un punto di riferimento per il settore turistico in provincia. Passano infatti all'ente camerale le competenze per la gestione degli esami abilitanti delle professioni turistiche, in particolare guida, accompagnatore e direttore tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo. Una svolta decisiva in un comparto vivo e vitale sul territorio, in continua trasformazione, impegnato ad affrontare le ambiziose sfide della realtà globalizzata, puntando su offerte in perenne aggiornamento, per intercettare l'interesse di viaggiatori sempre più esigenti e consapevoli. In provincia di Sondrio sono 77 le guide turistiche e 37 gli accompagnatori iscritti negli elenchi, 44 le agenzie di viaggio attive. Gli uffici di via piazzi si occuperanno così di tutta la procedura amministrativa finora seguita dalla provincia, dalla nomina delle commissioni d'esame, alla ricezione ed istruttoria delle domande, alla convocazione dei candidati alla tenuta delle sessioni d'esame. Una vera e propria rivoluzione in un settore nevralgico per il nostro territorio, che segna un passaggio epocale. Quella di Sondrio è infatti la prima Camera di Commercio Lombarda a cui vengono affidate, grazie alla subdelega della provincia, un primo nucleo di funzioni amministrative in ambito turistico. Un risultato reso possibile dalla nuova legge regionale sul turismo, che contempla il riconoscimento della possibilità di delega alle Camere di Commercio, alla cui stesura hanno contribuito Ugo Parolo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, e l'assessore allo sviluppo economico Mauro Parolini. Tale complesso ITER si è infine concluso nelle scorse settimane, con la sottoscrizione di una convenzione tra provincia e Camera di Commercio. Un compito strategico quello dell'ENTE, nato da una vincente sinergia, come sottolinea il Presidente Emanuele Bertolini. Pensiamo a svolgere bene questo nuovo incarico, in questa impegnativa fase di riforma per le Camere di Commercio, dove la nostra Camera sta trovando nuovi ambiti di sviluppo. Siamo molto soddisfatti del risultato, che è frutto di una perfetta intesa istituzionale con la provincia e con Regione. È questa la giusta via per valorizzare la nostra specificità, secondo criteri di efficienza e di razionalizzazione delle funzioni svolte da ciascuno, in un quadro collaborativo condiviso. Un primo passo che, come sottolinea Bertolini, può rappresentare un punto di partenza per future iniziative all'insegna di una proficua collaborazione tra gli attori del territorio. Auspico che anche altri enti mostrino la medesima lungiviranza della provincia di Sondrio, nel condividere soluzioni collaborative che valorizzano il ruolo della Camera di Commercio come l'amministrazione per le imprese. Il prossimo ambito a cui ci rivolgeremo sarà quello degli sportelli unici per le attività produttive, in particolare nei confronti dei comuni che li gestiscono in forma non associata e di quelli che ancora non utilizzano software messo gratuitamente a loro disposizione dalla Camera di Commercio. Grazie.